Allora ragazzi, ciao a tutti, in parole povere vi volevo dire che questo video è in pratica la poop del video che ha fatto Naruto89, il cazzetto su Mindblock, che in realtà sarebbe Blockade. Ho deciso di farlo perché Naruto ha fatto un video del cavolo e lo volevo prendere un po' in giro così si impara a fare video così al cavolo, a pubblicarle soprattutto. Quindi vi lascio al video e ciao! Ciao ragazzi, in questo video catteggio, stanno tracciando a scappa, scappa, uuuuh, sacca, eh vabbè, io però non mi metto a queste, io mi metto le armi, sticca su quel cazzo, perché te lo hanno vinto nel tunnel invece? Io vengo, io sono, guarda io sono molto razzato, come sei perché sono morto nel tunnel. Cattetto! Ma se stai fermo lì non fanno di cazzate. Eh ci sono morto pure. E invece ti schigo perché stiamo a registrare. Saluta YouTube almeno. Ok porri correte correte dobbiamo morare il tunnel. Oh dai passate oi raga, sbrigati Manu, Manu sbrigati. Venite venite dobbiamo passare da quest'altra parte. Oh raga 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 raga. Vado, 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 vado. va bene ma che su ma non c'è nessuno manu devi murare più avanti ecco vado eh aspetta aspetta eh aspetta io non sono ancora arrivato ma ma che cosa fai lì vieni nel tunnel mio c'era un fottuto verde ah ma tu sei andato in quel tunnel dobbiamo andare nel tunnel dei rossi andiamo al pieno sotto un'ultima non si toccatemi io ho il mondo dall'altra parte tra attenzione che state lì bene cercate di fare la parete uniforme non con i bug che ci mandano adesso ma che da stransi ecco la fine dei blocchi io non ho aspettato devo trovare un modo per uccidere aspettate io vado un sacco aspetta fermati io vanno so io io uccido io guarda faccio io uuuu 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 Lo allungo dopo, raga, lo allungo dopo. Mori anche tu, mamma. Cazzo, guardi. Cazzo, è tornato. Tanti sono Napoli, loro che gliene frega. Intanto, no, basta che passi dall'interno verso il nostro. Prendi io, lo faccio io. Pizza. Cosa? Ti porti una pizza. Oh, sono sbocato da fuori. Sono sbocato fuori dal tunnel. La cacca può. Ma porco Giuda, guarda, i miei genitori entrano e mi rompono le mani. Ho finito. Manu, Manu, la cacca popò. Vai, Rami, vieni qua. No, no, Manu, ti ricordi? Dimmi qualcosa. La cacca popò. Oddio, spero. Porco Giuda, ci stanno quelli che mi uccidono sempre. Oh, io sto 5,2,36. Sali un botto di livelli. Ma porco Dio! Sali un botto. Sali un botto di porco Dio. E infine... Manu, ma... Che non viene mecca che... Ma non è proprio un cazzo nel solo. Lo sapete che sono stanco di stare qui a battere contro i muri? Sai che sono stanca a sentirti parlare, porco Dio! Che io... Di cosa sono stanco? Io sono incinta. Cazzo! Tu... Aguri. I'm in love with the poppo. Raga, guarda quanti gialli, dai! Di shit crema ce ne sono un esercito! In quel momento Ivan capì che era fottuto. Attento, Ivan esplode. Ma pedro! Perù, perù! Secondo te, ragazzi, uno che va da delle palate un attiene a si... E spate! Va da delle palate. Eh, 30 kill ci mancano per andare in negativo. Adesso, perciò... E rispettatemi! No, io... Ok, per farlo io l'ho piazzato il mio vlog. No, lascialo qui in segno di ziplocchezza. No, no, non lo spuggerebbe, per favore! Aspetta, però questo... No, no, no! Dai, oh, vabbè, sono troppo potentico qua. Guarda, sono punetunisini! No, no, no! Per là! Io vado da Mirko. Manu continuerà a morire per sempre. Nell'eternità. Manu, ciao! Sei un tunisino, tunisino, Manu. Guarda, Manu, sta qui. Con l'RTG a sparacare. Vabbè, dopo lo taglio, era tuo padre. Chi lo sa. Io tre vloggi. Era tuo padre, Ivan. Eh, capito. Oh, cinque, quattro, tre, due, uno, patola! Dai, no, no, volevo arrivare a ceretto. Io volevo piazzare il mio vlog. Va bene, ragazzi. Io concludo qui questo video da Naruto69. Da Naruto69. Ciao! 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 Grazie a tutti